Io volevo leggere la maglietta, autonomia per tutti, per le macro regioni. Perché è importante essere qua oggi? Secondo me, perché siamo, posso dire come mi sento di dire, siamo caduti troppo in basso. È una vergogna, questi signori che stanno al governo sono dei fascisti, vogliono sembrare diversi, ma sono quelli di fatto. Più pericoloso il premierato o più pericolosa l'autonomia? Forse l'autonomia. È uno spacca Italia per lei? Sì, tantissimo. Quindi per lei questa riforma costituzionale è davvero una riforma spacca Italia? Sì. I vostri cartelli sono ovviamente di facile interpretazione, a maggior ragione oggi siete qui, mi spieghi il motivo? Siamo qua da un lato, contro tutto ciò che è avvenuto l'altro giorno in camera, perché pensiamo che quello che è successo è stato un attacco squadrista, violento. E poi in aggiunta abbiamo voluto mettere anche i loghi delle giovanili, dei fratelli d'Italia, proprio perché da poco è uscito un video su azioni... L'inchiesta di fanpage. Esattamente, l'inchiesta di fanpage che ha mostrato perciò che effettivamente loro sono, cioè fascisti. Perché è importante per voi essere qua oggi? Per pensare al futuro e a quel poco futuro delle persone anziane. Le pare poco? Sì, si può chiamare politica, ma questo è un buonsenso. È un gesto di buonsenso. Soltanto del buonsenso. Anche per dare un po' un senso di presenza a qualcuno che vorrebbe non troppo pure dei coglioni. Scusa, eh. In piazza qui contro oggi, contro il premierato per esempio, contro le imposizioni di questo governo che non ci piacciono assolutamente, contro le aggressioni in Parlamento e non ci piace neanche quello, assolutamente.